L'anno in cui siamo rattristati a livello di Saracino perché non abbiamo avuto le due rappresentazioni di giugno e di settembre, abbiamo un signor contentino direi io. Quindi la rivitalizzazione di una mostra che esisteva già dal 2016, che è stata completamente rivista, implementata in spazi ancora maggiori e con un sistema di audiovisione al passo con i tempi, quindi assolutamente accattivante. Un museo in un luogo antico, Palazzo Cavallo, che racconta di cavalieri e saraceni, il tutto però condito da realtà aumentata a touchscreen, è una sala immersiva. Questo è il percorso I colori della giostra, un viaggio interattivo alla scoperta della manifestazione. È un percorso interessante per tutti coloro, mi riferisco ai turisti, che non riescono ad entrare in piazza e almeno avranno un'idea di quello che li aspetta in modo che potranno magari tornare l'anno successivo. Le sale in tutto sono cinque ed ognuna ha un tema ben preciso, da quella del cinema a quella dei trofei, dove giganteggia la lancia d'oro realizzata per la centesima edizione della giostra. I petec inoltre potranno anche disputare una carriera, basterà salire in sella e muniti di visori per la realtà aumentata, si troveranno in piazza per correre giostra. È un altro passo verso la cultura e la tradizione, diciamo che la giostra del Saracino per noi ha questa doppia visione, è un elemento della nostra tradizione cittadina ed è anche un elemento che ci ricorda dal punto di vista culturale la storia della nostra città. Il Museo del Saracino sarà aperto al pubblico il prossimo 6 agosto, proprio nel giorno in cui le cronache narrano che si corse la prima giostra.